Ciao ragazzi, sono tornata oggi con un nuovo video, un nuovo video workout. Oggi alleniamo dorso-bicipiti. Vi ho pubblicato la scorsa settimana il video sul mio workout speciale gambe-glutei. Ve lo lascio qui vicino sullo schermo. E ora con questo bel sole andiamo ad allenare i bicipiti. A dopo! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti